Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Dunque, con un nuovo talo di capelli e galvanizzati dalla bellissima vittoria degli azzurri di ieri sera, partiamo con una nuova puntata di curiosità calcistiche sparse. Dunque, come vi ho anticipato, vorrei spiegarvi per prima cosa come mai appunto gli azzurri sono tali, a cosa si deve questa scelta di colore. Dunque, bisogna sapere prima di tutto che la Nazionale Italiana di Calcio nasce nel 1910 e nel maggio di quell'anno disputa la sua prima partita a Milano contro la Francia. In quell'occasione, la Nazionale Italiana scende in campo con una maglia bianca. La maglia doveva essere uniforme, e appunto non avendo trovato altro colore, si optò per il bianco, mentre i pantaloncini, interessante notare come fossero dei colori più disparati, su questo non era stata emanata nessuna disposizione, però appunto la maglia doveva essere uniforme e quindi si optò per un bianco. L'anno successivo invece si decise di adottare l'azzurro, che è tuttora appunto il colore simbolo della nostra Nazionale. Come mai allora questo azzurro? Beh, questa è stata una scelta, diciamo, monarchica, perché appunto l'azzurro era il colore, era ed è, il colore di Casa Savoia, la casa reale che ai tempi appunto regnava sul Regno d'Italia e che appunto rimase sul trono fino al famoso referendum del 2 giugno 1946. Tra l'altro, come mai appunto il colore di Savoia è proprio l'azzurro? Beh, questo è una scelta di carattere, diciamo, religioso, perché è il colore tradizionale del velo della Beata Vergine Maria, una figura appunto alla quale la Casa Savoia appunto è molto molto devota, è sempre stata molto devota. Ricordiamo ad esempio, a titolo di esempio, come la più alta onorificenza di Casa Savoia fosse e sia tuttora il collare dell'Annunziata, un collare appunto cavalleresco, appunto di un ordine cavalleresco, l'ordine della Santissima Annunziata, uno dei titoli della Vergine Maria. Tra l'altro appunto gli insigniti di questo collare, queste altissime personalità che potevano appunto vantare la più alta onorificenza del Regno d'Italia, erano tra l'altro di diritto cugini del re, quindi appunto con una dignità sociale veramente elevatissima. Tornando al calcio, andiamo al 1920 più o meno e ci spostiamo a Fiume, la famosa città dell'Alto Adriatico, a maggioranza italiana, attualmente però in Croazia, che tra 1919, settembre 19 e il Natale di Sangue famoso del 1920-21, quindi appunto fino al febbraio poi del 21, fu governata niente meno che da Gabriele D'Annunzi, il famoso superuomo, poeta, letterato, uomo d'armi, esteta, uomo tutto, ecco, e adesso appunto in quel tempo si trovava anche a essere il primo poeta capo di Stato. Un Stato piccolo, chiaramente una città-Stato, però insomma non male, devo dire. Dobbiamo riconoscerglielo. Ebbene nel 1920 lui fece disputare una partita di calcio tra i suoi uomini, i legionari appunto Fiumani che l'avevano accompagnato dall'impresa, e alcuni giocatori locali del gruppo etnico croato, appunto croati che abitavano nelle vicinanze di Fiume e che avevano deciso di sfidare gli italiani. Gli italiani scesero in campo non solo con la maglia azzura, ma con uno scudetto tricolore, proprio uno scudetto appiccicato sul petto con la nostra bandiera, e da lì nacque appunto il famoso scudetto che tuttora viene utilizzato dalle squadre appunto che ne sono insegnite. Quindi appunto questo è solo uno dei vari esempi di espressioni, modi di dire, che appunto ha inventato Gabriele D'Annunzio e che tuttora sono estremamente di attualità, sono utilizzate correntemente. Tra l'altro appunto su questo argomento torneremo in altri video, perché la materia è veramente molto ampia da trattare. Da ultimo una curiosità che ci porta a un'altra mia passione. Oltre alla storia io amo molto il cinema, e in particolare il cinema italiano. Mi piacciono molti grandi maestri del passato, dai registi Monicelli, Berto Lucci, Vittorio De Sica, oppure appunto i grandi attori, anche appunto Alberto Sordini, Montredi e simili. Ebbene dunque questa curiosità ci porta appunto a parlare di Bernardo Alberto Lucci, da un lato il grande regista, e un altro il grande regista del tempo, Pier Paolo Pasolini. Regista ma intellettuale, poeta, sappiamo appunto, un uomo, un genio eclettico. Ci troviamo dalle parti di Parma, siamo nel 75, e mentre Pasolini stava lavorando al suo, quello che sarà poi il suo ultimo film, il famoso e criticato Salò o le 121ate di Sodoma, film molto celebre e molto crudo, appunto sarà il suo ultimo film perché poi di lì a poco sarà assassinato sull'Italia di Ostia, come è noto, in circostanze tra l'altro poco chiare, e invece appunto Berto Lucci stava lavorando a uno dei suoi grandi capolavori, i suoi grandi colossal, perché più che un film parliamo di un vero manifesto artistico, che era appunto 900, con un cast internazionale tra l'altro. E quindi appunto Pasolini e Berto Lucci decisero, in una pausa delle riprese, di far sfidare le loro troupe cinematografiche in una partita di calcio, un amichevole diciamo. Tra l'altro Pasolini, tra i suoi vari interessi, aveva appunto anche quello del calcio, era un giocatore dilettante, però insomma appassionato, infatti ci sono anche diverse sue foto che lo ritagano appunto in tenuta da calciatore. Giocava quindi con la sua troupe, la partita si disputò, vinsero i cineasti di Berto Lucci, però soprattutto grazie a una piccola grande scorrettezza, come mai? Beh, Berto Lucci fece inserire di soppiatto, per così dire, tra i suoi dipendenti, tra i giocatori appunto della sua troupe, alcuni ragazzi locali, quindi del Parmense, che però erano dei giocatori professionisti. Sì, agli albori della carriera, chiaramente erano dei ragazzi, però erano già allenati e schillati, per usare un termine attuale appunto, e quindi appunto fecero valere la loro preparazione atletica, e quindi la squadra di Berto Lucci ebbe la meglio su quella di Pasolini. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, vi auguro una buona serata, e vi do la rivederci al prossimo video. Grazie, ciao!